Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per approfondire un argomento che mi è stato richiesto sotto l'ultimo video delle spose bambina, ovvero l'infibulazione. Più genericamente fa parte delle mutilazioni genitali femminili, che consistono nella parziale o totale asportazione degli organi sessuali femminili esterni. Nel caso dell'infibulazione si tratta proprio dell'asportazione di clitoride, piccole e grandi labbra e addirittura della cucitura della vulva, andando a lasciare semplicemente un forellino per poter far uscire l'urina. La parola infibulazione, in inglese infibulation, contiene al suo interno fibula, che in latino significa spilla. In realtà però il fenomeno ha origini veramente antichissime, tanto che si riscontrano delle tracce della pratica addirittura nell'antico Egitto, dove veniva chiamata circoncisione faraonica. Tutt'oggi nello stato egiziano circa l'85% delle donne è sottoposta all'infibulazione, nonostante la pratica sia ormai vietata dalla legge. Possiamo dire che il continente nel quale è più diffuso questo tipo di tortura è l'Africa, ma ci sono due stati asiatici nei quali viene praticata e sono l'Indonesia e la Malesia. Inoltre anche in Inghilterra e in America nel XIX secolo veniva operata, operata, diciamo così, a fini terapeutici per combattere l'isteria e la nifomania. Il paese in cui si registra la maggiore incidenza è la Somalia, dove purtroppo, tristemente, il 98% delle bambine è vittima dell'infiburazione, tanto che venne definito il paese delle donne cucite. Ed è proprio questa cucitura che idealmente dovrebbe mantenere l'illibatezza della donna, quindi preservarla pura fino al momento del matrimonio, ed è lo sposo, proprio prima di consumare il rapporto, che dovrebbe scucire questa cucitura. È caratteristico delle tribù nomadi, in quanto viene percepito come un rito di passaggio dall'età infantile a quella adulta, ma anche di paesi islamici e cristiani. Infatti non è una tradizione, diciamo, che è legata in qualche modo alla religione. Nel Corano non si parla in alcun modo di mutilazioni genitali femminili, ma è più che altro legata a abitudini tribali, che sono ancora vive e sentite, tanto che molto spesso sono i capi villaggio a non cedere rispetto alle richieste di alcune donne che decidono di non sottoporre le proprie figlie all'infiburazione. Non soltanto ragazze vergine, ma anche donne divorziate e vedove. Difatti la cucitura serve per riportare lo stato di purezza che era precedente al momento del matrimonio. L'infiburazione è ormai vietata nella maggior parte dei paesi, soltanto che negli stati in cui ancora questo fenomeno è molto sentito, continua, diciamo, a essere perpetrato perché le donne, per motivi di tradizione e di religione, vengono altrimenti considerate impure. Se sono impure non trovano marito e le donne da sole spesso vengono escluse dalla società. La fascia dell'età è quella dai tre mesi, quindi neonate, sino ai 15 anni. Intanto parliamo di come questa pratica viene operata. Normalmente si costringe ovviamente la bambina a essere stesa di forza e con una lametta, una banalissima lametta che può essere arrugginita, vecchia o precedente alla bambina che hanno operato prima. Viene, diciamo, tagliato quello che deve essere tagliato, viene cucito quello che deve essere cucito e dopodiché si passa al prossimo. Non c'è nessun tipo di disinfezione, non c'è nessun tipo di cura sanitaria e dovete pensare che molte persone, molti bambini piccoli, piccoli, piccoli muoiono proprio per questa motivazione, cioè che contraggono delle malattie per via dell'operazione assolutamente non necessaria. Anche quando la cicatrice è guarita, diciamo, comunque c'è il rischio di cistiti, infezioni urinarie, ritenzioni urinarie. Questo significa che l'apparato femminile non potrà mai funzionare bene e sarà un costante disagio per la donna che ne è stata vittima. Un ulteriore grave problema sia al momento del parto. Infatti il bambino deve passare attraverso un'apertura che è costituita di tessuto cicatriziale che è quindi poco elastico. Essendo poco elastico, il bambino fa fatica ad uscire. Si prolunga quindi il momento del travaglio e purtroppo, non essendo più ossigenato dalla placenta, nutrito dalla placenta, succede che una astinenza dell'ossigeno da parte del bambino mette in pericolo la sua vita e nel migliore dei casi lo può far nascere con dei problemi neurologici. Inoltre, nel caso in cui l'utero si rompa, muoiono sia il bambino che la mamma partoriente. Sicuramente non sono poi da dimenticare gli aspetti psicologici. Difatti, dopo tutto quello che vi ho raccontato, capirete bene che una bambina, una ragazza, una donna che dovranno vivere la propria vita con un'esperienza del genere che è traumatica, faranno fatica a rapportarsi con se stesse e con gli altri. Molto spesso queste donne, purtroppo, non riescono nemmeno ad avere figli, ma anche se lo vorrebbero, perché sanno che è pericoloso, perché è troppo doloroso avere qualsiasi tipo di rapporto e non riescono addirittura ad avere una relazione con un uomo perché viene visto come un momento di vergogna. Per fortuna le cose però stanno cambiando e questo grazie anche a una ragazza africana di 24 anni che si chiama Nais Nailante Ilanghite. Lei faceva parte di una tribù masai, è nata in Kenya, ed è riuscita a salvare oltre 10.500 ragazze dall'infiburazione. Lei è rimasta orfana, era andata ad abitare in casa della zia e all'età di 9 anni è scappata via in quanto la volevano infiburare. È riuscita poi, qualche anno dopo, tornando al proprio villaggio a sensibilizzare prima gli anziani spiegando loro perché la pratica sia sbagliata e poi i ragazzi giovani Moran che sono i guerrieri giovani appunto della tribù. Addirittura il capo villaggio, riconoscendole un grande potere di divulgazione, una grande forza, le ha conferito l'esiere che simboleggia il potere e il prestigio all'interno dei maschi della tribù. Nel frattempo questa ragazza si è laureata in management sanitario ed è sostenitrice e assistente dei progetti di AMREF in Kenya proprio contro le mutilazioni genitali femminili. Io vi ringrazio soprattutto per avermi seguito e per aver portato pazienza ad essere arrivati fino a qui. Vi chiedo di condividere il video semplicemente per farlo conoscere più persone possibili e spiegare quali sono le problematiche che affliggono le donne in tutto il mondo. Ovviamente non parleremo soltanto di problematiche delle donne e che purtroppo in generale è una categoria che spesso è vittima di ingiustizie. Mi viene da pensare che noi qui ormai siamo ad un livello altamente tanto avanzato che possiamo pensare a dei livelli di egualitarismo tra i sessi veramente oltre ogni pensiero o anche soltanto vent'anni fa. Invece ci sono paesi del mondo in cui i diritti base vengono negati e secondo me bisogna dare spazio alle persone come Nais che hanno la forza e il coraggio di ribellarsi perché sono persone che veramente meritano tutta l'attenzione possibile da parte dei media per riuscire a cambiare il destino di persone che hanno avuto la sfortuna di nascere in continenti in cui non è previsto vivere come viviamo noi occidentali. Lasciatemi pure le vostre richieste di approfondimento io prendo sempre appunti ho un blocco notice di proposito e vi lascerò anche io dei link nell'info box con dei documentari delle cose delle informazioni che vi possono tornare utili molto volentieri ci vedremo al prossimo approfondimento se vi va. Ciao!